ciao a tutti eccoci qua facciamo un altro video sempre sui master e parliamo di un master un po particolare parliamo di triclops insieme a trap joe sempre visti molto vicino molto uniti perché vive un po tutti e due come specie di pirati ecco quattro con l'uncino questo qua con un occhio solo e li ho sempre visti un po come come dei pirati pirati del loro mondo ovviamente poi pirati non sono non c'entra niente però mi piace vedere così come vedete c'è anche qua l'immagine questa versione triclops è la versione un po deluxe che ha diciamo vabbè adesso però vediamo poi qua abbiamo sempre degli altri personaggi un faker più che un faker mi sembra un androide sembra quelli il nemico di chiashan poi scarico che ce l'ho già fatto il video questo poi lo vedremo visto purtroppo non l'ho trovato mi piace da morire come personaggi preferiti ho un fisto della super 7 ma lo vedremo e da ragazza con quello che mi piaceva da morire che dal giocattolo che poi venduto il fratello di menetanus almeno nel cartonimato 200x e nell'ultimo cartonimato non lo menzionano questa cosa e poi abbiamo la versione di men selvaggia quindi senza armature senza niente preso un pochettino da quel libricino appena uscito dove vedevi men dove c'era la maga che gli dava tutta l'armatura tutto quanto quindi diciamo che i men era una specie di 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 uomo primitivo e poi diventava una specie di eroe questo mi ricordo io ora lo giriamo ed ecco qua qua abbiamo triclops versione classica con i tre occhi che girano triclops con un'altra testa versione con questa specie di parte qui da santone che io non metto perché non mi piace l'ho preso per così per due motivi uno perché il prezzo era vantaggioso mi conveniva prendere questo due perché non si trova più quindi anche volendo comunque questo il mantello questo mantello color bronzo che però credo che si possa mettere a lui ma io non ce lo metto perché il giocattolo non ce l'aveva qui non ce lo metto abbiamo triclops con la sua spada non c'è quella specie di spia di drone volante che lo lo affiancava quasi sempre perché come sapete lui è una specie di scienziato di di ingegnere di di quel pianeta che costruiva tutte queste macchine e non mi ricordo come mai perché lui a volte lo fa vedere senza questo e lui aveva gli occhi qui non è che aveva un occhio solo aveva gli occhi il volto normale poi è diventato cieco allora gli hanno messo questa specie di divisore con un occhio solo per poter vedere se non mi sbaglio però non mi ricordo dove vorrei non vorrei dire cretinate prendetemi con le pinze perché potrei sbagliarmi come sapete dalla storia non vorrei fare dei spoiler ma tanto parliamo di cartoni amati di 30 anni fa anche di più e anche 40 35 40 e parliamo della storia è che la mamma di man ora non mi ricordo la principessa la regina adora e vabbè è shira no vabbè non me lo ricordo comunque la mamma di man del principe adams era una terrestre che con la era viaggiava su questa navicella non mi ricordo per quale motivo comunque alla fine entra dentro un buco nero mi sembra e viene catapultato in questo pianeta in questo pianeta eternia dove viene poi salvata da un soldato che poi col tempo si è diventato il re di eternia re randor e e poi vabbè si si innamora la sposa e lì nasce principe adams e adora che nella porta via della porta via ordak che va rapita perché vuole chiedere un riscatto non mi ricordo chiedere che cosa però poi insomma scappa dal pianeta e se la porta via inizialmente la usa come sua scagnozza ma poi alla fine lei scopre la verità e diventa il suo peggiore nemico così vi ho riassunto la storia che già sapete e non vorrei dire che lui inizialmente era un collega un sottoposto della principe della regina che anche lui era atterrato con la navicella era caduto anche lui però era stato trovato dall'incidente era diventato cieco ha perso la vista era stato trovato da skeletor era diventato seguace di skeletor però questo non vorrei dire che tutta una cretinata che che poi chissà che cosa avevo visto avevo letto da qualche parte una cosa del genere ma vorrei sbagliarmi con qualcun altro quindi prendetela ripeto con le pinze perché potrebbe essere tutta una grandissima cretinata sì che la mamma del principe adams era una terrestre atterrata lì sì infatti c'è anche la versione con la tutta spaziale ma mi sembra che lui era il suo aiutante il suo sottoposto che era con lei mi sembra quindi dovrebbe essere un terrestre anche lui però non ne sono sicuro vabbè ragazzi niente apriamo questa scatola io ve lo dico già tiro fuori solo lui non sto a tirare fuori tutta questa roba qui perché tanto non mi interessa in versione santone lì quando trova la scheda madre non nell'ultimo cartone amato che hanno fatto non mi piaceva per niente e a me piace solo lui perché non non ce l'ho adesso guardo meglio la tre cattivi ma non credo di avercelo eccolo qua allora che dire come versione classica mi piace molto ha un bel volto un bel proprio fatto bene mi piace questa mascherina ecco l'occhio forse potremmo fare un po più grosso come versione santone a me francamente non mi dice niente come vedete c'è una testa cambiabile anche questa con tre occhi ha questa versione di mani aperte che probabilmente si usano per come santone perché se non ha più bisogno di ridere anni non lo so e ha questa specie di mantella di mantella mantello amaranto qui com'è così qua c'è il suo mantello nero quindi non credo assolutamente che vada qui ma sicuramente andrebbe qui ma a me non mi interessa come vedete anche altri due occhi questa versione qui della testa e qui altri ecco gli occhi potremmo fare un po più grossi comunque lo tiro fa nella sua confezione lui e la spada il resto rimane lì e lo vediamo meglio eccolo qua eccolo qua non aveva gancettini meno male così che rompono le scatole come vedete ha la parte di sotto classica dei master un po tipo i men alla parte di sopra qui che va un po girata eccolo qua diciamo che a parte l'occhio potrebbe essere un buono perché il volto è molto umano questo personaggio ai tre occhi che cambiano forse erano fatti leggermente più grossi però sono piccolini anche il mantello che non ci metto alla sua spada che ora la mettiamo e che dire molto 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 bello molto 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 io ce l'avevo quello degli anni 80 mi piaceva tanto l'ho avuto tardi ma l'ho avuto non ha nessun porta spada invece quello vecchio sì qui possiamo girando allora qui ho girato è molto duro è da girare l'occhio qui ho messo questa versione qui qua è quella che era di serie ho messo questa versione triangolare trapezoidale però il colore come occhi era più questo è tondo non mi piace come occhi erano più belli quelli del vecchio giocattolo comunque ci lascio da qua perché la quello un po più grosso come sta meglio vabbè al nome l'ha preso da ciclope non è che non hanno usato molta fantasia mi piace molto vediamo subito l'altezza però mettiamo vicino a parliamo di 18 e mezzo lo mettiamo vicino ad un altro personaggio ora voglio vedere se per sbaglio se l'avessi già ed ecco qua ragazzi ho messo vicino a trapegio al suo secondo me amico anche se poi amici nel cartellamato non erano più così tanto anche perché comunque sia il braccio robotico a trapegio che ha costruito lui quindi un minimo di riconoscenza non mi veniva la parola ce la deve avere perché lui che ha dato il braccio robotico e gli ha costruito anche la mascella quindi insomma ragazzi niente vi faccio fare un giro e poi ci salutiamo molto molto belli entrambi veramente vabbè ragazzi mentre girano ci salutiamo che dire se il video vi è piaciuto la lasciatemi un like se potete seguitemi perché ne arriveranno tanti altri ok vi farò poi un dei video anche su quelli che avevo già e a mano a mano che ne piglio altri insomma ve li faccio vedere ok dai ciao ragazzi al prossimo video buon weekend ciao ciao